Grazie Presidente, cari colleghi, io do lettura di quella che è la posizione ufficiale del Movimento 5 Stelle, che credo sia assolutamente una posizione sobria e molto puntuale da questo punto di vista. Naturalmente siamo straziati da quello che è successo a Parigi, sono morti i nostri fratelli, sono morti i nostri figli. Gli attacchi di Parigi sono stati terribili e hanno scosso la coscienza e la percezione di ognuno di noi. Nella capitale francese è stata realizzata una vera e propria azione militare, con un commando specificatamente addestrato e pronto a morire. Gli attacchi di Parigi sottolineano ormai quanto siano deboli e facilmente attaccabili i sistemi occidentali, incerti e fortemente divisi sulle forme di contrasto al terrorismo e il nostro Paese, con il giubileo alle porte, rischia oggi di divenire il primo bersaglio dei fondamentalisti. Se i fatti di Parigi rappresentano l'11 settembre europeo, quel che è certo è che occorre rispondere in modo totalmente diverso da come si è risposto dopo l'11 settembre statunitense. Questo perché da quando si è dichiarata una guerra totale al terrore, il terrore è proliferato. I dati del Global Terrorism Index rivelano che le vittime del terrorismo sono quintuplicate dagli attacchi alle torri gemelle e nonostante 4.400 miliardi di dollari spesi nelle guerre in Iraq, Afghanistan e in altre aree di crisi sono nate nuove sigle GIAiste. Negli ultimi 45 anni, sempre secondo il Global Terrorism Index, l'80% delle organizzazioni terroristiche è stato neutralizzato grazie al miglioramento della sicurezza e alla creazione di un processo politico finalizzato alla risoluzione dei problemi che erano alla base del sostegno ai gruppi terroristici. Appena il 7% è stato invece eliminato dall'uso diretto della forza militare. Gli attentati di Parigi e i loro esecutori dimostrano ancor più che il terrorismo 2.0 si affronta internamente, non facendo alzare in volo un F-35. L'Italia, ancora prima degli attentati di Parigi, aveva un disperato bisogno di sicurezza. Le forze dell'ordine sono sotto organico e mal equipaggiate, le risorse sprecate in cacciabombandieri difettosi ben 13 miliardi di euro e in una guerra inutile, oltretutto persa come quella in Afghanistan, vanno investita in sicurezza interna. La sicurezza è un investimento, non solo una voce di bilancio. Oltre alle forze dell'ordine è l'intelligence che necessita di sostegno ulteriori anche attraverso la formazione di corpi di elite. Sappiamo tutti che oggi non c'è una soluzione immediata al terrorismo, ma sappiamo anche che il terrorismo è una macchina che va a benzina. Per togliergli la benzina occorre da un lato lavorare sul traffico di armi e dei finanziamenti ad ISIS e contemporaneamente spegnere uno a uno i focolai che alimentano il Jihad, dandogli forza di propaganda utile al reclutamento di nuovi miliziani. L'Italia deve, uno, ripristinare i fondi che il Governo ha tagliato alle forze dell'ordine e dare maggior sostegno all'intelligence. Due, interrompere ogni rapporto e sanzionare tutti quei Paesi che direttamente e indirettamente sostengono il Jihad, in particolare le monarchie del Golfo, su tutti Arabia Saudita, che contribuiscono a finanziare in modo illegittimo milizie giaiste con la compiacenza dell'Occidente. A Riyad è in vigore la Sharia, così come a RACA, quartier generale dell'ISIS. A Riyad le donne non possono guidare, non hanno alcun diritto, è in vigore la pena di morte, la fustigazione, ma nel nostro Governo nessuno sembra stupirsi, neppure quando all'Arabia Saudita viene concessa la guida del Consiglio dei diritti umani dell'ONU. Non sembra stupirsi nemmeno Matteo Renzi, che solo pochi giorni fa era in visita proprio a Riyad. L'Italia deve varare subito una muratoria sulle vendita di armi ai Paesi coinvolti in conflitti, anche indirettamente, anche in guerre per procure come quella seriana. Sono stati dati diritti alle merci, tra cui armi e tolti alle persone. Oggi vogliono limitare la libertà delle persone, ma non quella delle armi. Rafforzare le nostre frontiere. Siamo la porta d'ingresso in UE. L'Italia è sottoposta a rischi maggiori. Servono maggiori controlli e controlli efficaci. Introdurre misure volte alla prevenzione del terrorismo, misure atte ad avviare processi di deracadilizzazione, che nel decreto Alfano sono assenti. Non possiamo sempre reagire. Bisogna anticipare l'ipotesi di attacchi. Non sarà un aumento della pena di prigione a convincere un kamikaze a non farsi saltare in aria in una piazza. Vanno altresì spenti i focolai che alimentano la propaganda giaista. La stabilità in Medio Oriente è la condizione necessaria per sconfiggere il terrorismo. Quindi ritiro immediato delle truppe italiane dall'Afghanistan. Coinvolgere nel processo diplomatico attori cruciali, ma finora rimasti al margine del dibattito internazionale, come la Lega Araba e l'Unione Africana. I governi europei finora hanno portato avanti iniziative di politica estera, non considerando gli interessi e le volontà dei propri popoli. Anziché colpire il terrorismo e salvaguardare la sicurezza delle frontiere d'Europa, hanno garantito interessi privati delle multinazionali e perseguito altri obiettivi. La situazione sta precipitando ed è necessario un cambiamento di rotta drastico e immediato. Se la responsabilità degli attentati in Francia e dell'ISIS è l'obiettivo comune smantellare l'organizzazione dello Stato Islamico nel territorio in cui si è insediata in Siria e in Iraq, si inizi con l'individuare e punire chi compra il loro petrolio, con i proventi del quale finanziano la loro struttura e le attività terroristiche in tutto il mondo. Stime indicano che si tratta di 500 milioni di euro ogni anno. Chi finanzia i terroristi va considerato loro pari. L'Europa deve riconoscere come suo alleato qualsiasi paese che mostra chiaro interesse di combattere il terrorismo, compresa la Russia. L'Italia e i 28 devono innanzitutto revocare le sanzioni sancite nei confronti di Mosca per facilitare il percorso di cooperazione e lo svilgimento delle attività diplomatiche. Il governo italiano ha il dovere di agire per garantire la sicurezza interna dei cittadini italiani, ma finora ha dimostrato di non avere granché credibilità. Quanto detto, sinora, gentili colleghi, è infatti la sintesi di atti parlamentari già depositati dal Movimento 5 Stelle alla Camera e in Senato, che ci auguriamo questo governo sostenga. Colgo infine l'occasione per ribadire la ferma condanna del Movimento 5 Stelle ad ogni forma di violenza, odio e terrore, nonché la nostra vicinanza al popolo francese e a tutti i connazionali coinvolti. Ci stringiamo attorno al dolore della famiglia di Valeria Solesini.